Per la terza di Alessandro Volpi, che insegna storie contemporanee e storia economica al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa e che, come sapete, è un amico di lunga data di Ottoline, uno dei nostri guru. Ora, il titolo è interessante e presenta già la tesi che argomenta Condovizia di esempi nel titolo Prezzi alle stelle non è inflazione, è speculazione. Dopo vent'anni di prezzi bassi, dall'estate del 2021 esplosa l'inflazione, questa inflazione che sembra essere diventata una caratteristica persistente. Quanto almeno in Europa. E si tratta di un aumento dei prezzi che non dipende però in gran parte, appunto, delle zone del mondo da un aumento dei consumi, neppure da una carenza di produzione. E quindi Alessandro Volpi cerca di partire dalle radici di questa inflazione per cercare di capire come è nata. Quindi la prima domanda è come siamo arrivati fino a questo punto, come è partita questa crisi dei prezzi a partire dall'estate del 2021. E in particolare tu parli del fenomeno del just in time, di questo fenomeno del capitalismo che tende a massimizzare i profitti e che avrebbe però distorto i meccanismi produttivi eliminando le scorte. Sì, grazie, ma intanto appunto, giustamente è stato introdotto il libro, parte da una constatazione evidente. Noi siamo entrati in una fase che è una nuova fase inflazionistica che non conoscevamo sostanzialmente da 20-25 anni, insomma dalla metà degli anni 90. Noi non conoscevamo aumenti di prezzi che fossero paragonabili ai prezzi, diciamo, degli ultimi tempi, appunto a partire dall'estate del 2021. Prezzi con un'inflazione che è arrivata al 10%, ora viaggia intorno al 7%, un po' più bassa negli Stati Uniti, ma insomma un'inflazione ovviamente molto importante che in alcuni momenti è arrivata, appunto come si diceva prima, a due cifre, non la conoscevamo da ormai lunghissimo tempo, non la conoscevamo perché nonostante i consumi in parte fossero aumentati c'era stato un sistema appunto di contenimento dell'inflazione in larga parte legato al tema della finanzializzazione su cui magari torneremo, per cui sostanzialmente l'impressione generale era che i prezzi fossero destinati a scendere e non a salire. Questa impressione è cambiata nell'estate del 2021 per una serie di fattori, la prima, il primo fattore è certamente l'idea che fosse finito il Covid, quindi che stessero per ripartire i consumi mondiali, l'altro fattore importante a cui facevi riferimento è il fatto che in quel momento sono venuti a galla, la partita dell'estate del 2021 con una parzialissima ripresa della domanda mondiale sono venuti a galla quelli che sono i limiti più evidenti del sistema capitalistico, cioè un sistema capitalistico che si era organizzato nel corso degli ultimi 30 anni sostanzialmente dislocando la produzione in giro per il mondo e eliminando in larga misura le scorte di magazzino, just in time vuol dire fondamentalmente quello, le imprese si approvvigionavano a seconda dei momenti senza avere mai delle scorte che fossero delle scorte significative e questo tipo di elementi, cioè la percezione che stesse per ripartire la domanda, la percezione e anche per alcuni versi una parziale manifestazione di alcuni colli di bottiglia come appunto l'assenza di scorte di magazzino, ha creato questa aspettativa che i prezzi fossero destinati a salire. Perché dico l'aspettativa? Perché in realtà appunto, come avremo modo di dire se abbiamo modo di tornarci, in realtà anche questi colli di bottiglia, anche le difficoltà del just in time, hanno determinato un minore approvvigionamento in maniera molto contenuta, cioè noi non ci siamo trovati improvvisamente di fronte alla carenza di materie prime, di fronte alla carenza di fonti energetiche, ci siamo trovati di fronte ad un'aspettativa che era l'aspettativa di un mondo che riprendesse e non fosse pronto per la ripresa. Che cosa è successo in quel momento? È successo che in quel momento quegli strumenti finanziari che sono stati costruiti in larga misura, a partire dal nuovo millennio, che sono stati potenziati dopo la crisi del 2008 paradossalmente e che sono diventati il pane quotidiano della finanza, cioè gli strumenti derivati, le scommesse sull'andamento dei prezzi, hanno cominciato a puntare sistematicamente al rialzo e questo ha fatto sì che nel giro di pochissimo tempo, cioè dall'estate del 2021 al dicembre del 2021 e poi dopo, per effetto dello scoppio della crisi della guerra in Ucraina, sempre determinando aspettative di ulteriori difficoltà, il complesso di queste aspettative si è tradotto in scommesse di natura finanziaria che hanno determinato realmente l'andamento dei prezzi, senza, perché questo è il tema su cui il libro insiste, e che secondo me è il tema che invece è stato trascurato dalla narrazione mainstream, come più volte si è detto, senza che ci fossero dei reali e veri lacune nella domanda e nell'offerta soprattutto dei beni. L'energia, la quantità di gas che arrivava in Europa era sostanzialmente la stessa a maggio del 2021 e a dicembre del 2021, nel frattempo i prezzi erano passati da 30 euro a 100 euro a megawattora, è scoppiata la guerra in Ucraina, gli approvvigionamenti non sono cambiati perché non ci sono stati interruzioni del flusso di approvvigionamento di gas russo, non ci sono state carenze sostanziali di materie prime, di materie alimentari e quant'altro, però i prezzi sono impennati, e sono impennati perché appunto nei luoghi dove si definiscono i prezzi le scommesse sull'andamento dei prezzi hanno puntato a rialzo e hanno generato un unicum storico, che nel giro di pochissimi mesi i prezzi sono saliti di dieci volte senza che il rapporto reale tra la domanda e l'offerta di quei beni avesse subito dei significativi cambiamenti. E quindi è chiaro che è un'inflazione da speculazione finanziaria, è un'inflazione legata alla finanziarizzazione, appunto alla proliferazione di questi titoli. Per tutti questi mesi ci siamo sentiti invece raccontare che il problema era il prezzo di energia sale perché manca il gas, i cereali sono carenti perché sono bloccati, questo dopo l'inizio della guerra, dopo il febbraio del 22, i porti del Mar Nero. Poi alla fine se si vanno a vedere i numeri ci si rende conto che gli approvvigionamenti sono rimasti sostanzialmente gli stessi, che non c'è stata la crisi petrolifera del 73 quando viene meno il 30% del petrolio che passava attraverso alcune forniture dei paesi che sostenevano appunto la lotta dei palestinesi nel 79 quando viene bloccato lo stretto di Hormuz, non c'è niente di tutto questo, i volumi fisici sono sostanzialmente gli stessi ma la speculazione è partita, i grandi fondi l'hanno guidata con una oculata dal loro punto di vista regia e questo ha determinato un'inflazione che non ha uguali nella storia contemporanea perché non dobbiamo dimenticarci questo, che noi ci troviamo di fronte, ci siamo trovati di fronte a due anomalie, una un aumento dei prezzi senza che ci fosse una carenza reale di produzione o tantomeno un aumento dei consumi è il secondo che abbiamo toccato il record, siamo arrivati a prezzi assolutamente mai raggiunti nel corso degli anni da cui si hanno le statistiche e questa è la peculiarità di questo tipo di inflazione. Quindi facciamo proprio pedissequamente, seguendo questo ruolo delle scommesse, quando è che sono diventate storicamente in questa fase, in questo tardo capitalismo, quando è che le scommesse hanno incominciato a giocare questo ruolo così importante nella definizione dei prezzi? Questo è il punto vero su cui il libro poi insiste proprio per provare a spiegare il tema dell'inflazione che è un'inflazione speculativa e quindi che ha queste caratteristiche. L'origine del male, se così si può dire dal mio punto di vista, nasce nel momento in cui questi strumenti, che sono gli strumenti derivati, che sono strumenti tipici della finanza, che sono, per usare un termine molto più semplice, delle assicurazioni contro il rischio nel momento in cui si opera la compravendita di un bene. Io sono un venditore di gas, stabilisco un contratto di vendita di gas con un compratore, quel contratto ha una scadenza a tre mesi, è ovvio che nel frattempo ci possono essere delle eventuali oscillazioni nelle quotazioni della valuta in cui è fatta l'operazione e quindi sostanzialmente io, soggetto che vendo e il soggetto che compra, contraiamo un'assicurazione che è un titolo derivato, quindi ho il contratto originario, i soggetti che sono interessati dalla compravendita stipulano un'assicurazione. Così è funzionata storicamente la finanza, fino all'inizio del nuovo millennio. All'inizio del nuovo millennio si è cominciato a pensare che siccome, la banalizzo, ma su questo ci sono fiori di studi che poi dimostrano questa considerazione, se all'inizio del nuovo millennio ci si è cominciati a convincere che la produzione reale fosse insufficiente per garantire una crescita complessiva dei redditi e delle ricchezze di fasce importanti della popolazione, allora si è deciso che bisognasse sganciare la finanza dall'economia reale. Quindi che cosa è successo? È successo che è diventato possibile che anche i soggetti che non erano interessati dalla compravendita del bene potessero creare delle scommesse che scommettevano sul prezzo di quel bene. Quindi io che non ero interessato, mettiamo dei nomi e dei cognomi, grandi fondi hedge, le grandi banche di investimento, le grandi banche d'affari, anche grandi banche di credito ordinario, vari soggetti hanno cominciato a produrre delle scommesse sull'andamento diciamo così dei prezzi di beni che loro non erano, a cui non erano legati in termini appunto di contratto. Succedeva appunto che veniva definito che un megawattora di gas costava 30 euro perché il venditore e il compratore pattuivano 30 euro, nel momento in cui veniva definito questo prezzo, contestualmente venivano fatte tutta una serie di scommesse da soggetti che non centravano nulla con quel contratto, che non avevano nessun legame con quel contratto, che scommettevano che il prezzo sarebbe salito perché le aspettative, come si diceva prima, erano aspettative di un'eventuale riduzione degli approvvigionamenti da parte della Russia, ancora prima un'eventuale insufficienza dell'offerta di gas perché si sta rimettendo in moto l'economia mondiale. Quindi i soggetti che scommettevano scommettevano al rialzo il prezzo originario che era 30 euro a megawattora, definito la borsa di Amsterdam, che era la borsa di riferimento europea, era ed è tuttora dove operano in larga misura soggetti che non sono interessati alla compra-vendita, venivano attuate una serie scommesse per cui si diceva molto banalmente, è molto probabile che da qui a tre mesi quel megawattora non costi 30 euro, ma ne costi 50, 60, 70, 80, qual è il punto? Il punto è che soggetti che scommettevano non avevano il contratto originario e questo prima non si poteva fare, quindi la risposta alla tua domanda è da quando hanno a partire dal 2000 grossomodo cambiato le normative in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio, alle varie sedi, in particolare poi gli accordi specifici, gli accordi TRIPS e via dicendo. In tutte quelle sedi si è deciso che era possibile questo sganciamento, compresa nella normativa dell'Unione Europea, quindi è diventato possibile scommettere senza avere i sottostanti, quindi senza avere nulla a che fare con il contratto e la mole di queste scommesse è diventata così preponderante che alla fine quando il mercato di questi scommettitori, il mercato, il gioco di questi scommettitori, perché sarebbe ora di smettere di usare questo termine in modo assolutamente improprio, il gioco di questi scommettitori ha deciso che il prezzo è 70-80 euro, che cosa succedeva? Che il successivo megawattora di gas reale non veniva venduto a 30, ma veniva venduto al prezzo della speculazione, quindi a 70-80 e così a salire e siamo arrivati fino a 350 euro senza che il rapporto fra la domanda e l'offerta fosse cambiato per effetto di un intervento di soggetti che non avevano nulla a che vedere con il ciclo produttivo e che, ripeto, fino alla trasformazione normativa intervenuta appunto grosso modo dalla fine degli anni 90, primo anni del nuovo millennio, non era possibile, perché fino ad allora gli strumenti della finanza derivata erano delle vere e proprie assicurazioni, cosa che oggi non è più possibile. Qui l'esempio è molto palmare, prima è come se si potesse fare un'assicurazione senza avere l'automobile sulla quale fare, nei confronti alla quale fare l'assicurazione. Prima la finanza prevedeva le stesse regue del mercato delle assicurazioni, ora la finanza prevede che, a differenza di quello che accade nel mercato dell'assicurazione sui beni reali, non è necessario disporre dell'automobile per fare la scommessa. E questo ha gonfiato i prezzi, ha determinato un'esplosione di prezzi che ha portato i prezzi appunto nel giro di pochi mesi da 30 a 320, 330 euro al megawattora. Questo vale per il gas, ma vale per tutta una serie di altri beni. Quindi c'è stata una trasformazione profonda del ruolo della finanza nel momento in cui ci si è convinti che la finanza dovesse diventare un'industria al pari delle altre, anzi sostituendo le altre. Io devo, la famosa finanza artificiale, io devo creare dei prodotti che sono i prodotti finanziari in grado di generare ricchezza a prescindere dall'economia reale. Quindi li devo svincolare e su questo principio teorizzato, teorizzato, ripeto, non nato casualmente, teorizzato e ovviamente sostenuto parallelamente dallo sviluppo delle grandi banche, edge, scusatemi, grandi fondi edge che poi hanno avuto un ruolo decisivo anche nella trasformazione bancaria. Su questo si è determinato questo sganciamento che provoca di fatto una oscillazione dei prezzi che è impazzita, perché come poi si scommette a rialzo, si può scommettere a ribasso qualora si ritenga che si è raggiunto un picco, che è un picco rispetto al quale invece è conveniente cominciare a scommettere a ribasso. Quindi è figlio di una nuova trasformazione, Giuliano lo dice più volte e neanche io ne sono convinto, è figlio dell'era Clinton. Purtroppo il padre nobile di queste simpatiche trovate è il cambiamento della normativa americana sul sistema finanziario, che è stata poi trasferita in sede Organizzazione Mondiale del Commercio, che è stata un po', come si può dire, pedissequamente e un po' in maniera idiota trasferite in Europa, o meglio recepita sul piano europeo, perché poi alla fine questi grandi fondi non sono certamente fondi europei. Aggiungerei, scusa Ale, solo una nota storica, nel senso perché giustamente l'amministrazione Clinton è notoriamente la più, come ho detto, la più speculatoria, friendly della storia americana, però non è una cosa che è nata proprio dalla contro-rivoluzione neoliberista negli Stati Uniti, Reagan-Tutcher, che è stata proprio una distruzione sistematica, programmata dell'economia reale a favore della finanza, alla quale poi Clinton ha dato i mezzi necessari per proliferare su scala globale e amplificarsi a dismisura quello, insieme alla globalizzazione che è stata appunto la delocalizzazione di quella economia reale, produzione reale, verso altri lidi per proprio comodificare il più possibile a ogni tipo di mercato per dare una materia prima su cui speculare, in qualche modo, quindi è una continuità, ecco, lui è quello anche se secondo me però anche lì c'è un salto di qualità, cioè nel senso la Reganomics hanno ovviamente posto le premesse, perché hanno posto le premesse della liberalizzazione dei flussi di capitale, perché altrimenti senza la liberalizzazione dei flussi di capitale è chiaro che se i capitali rimanevano ancorati alle realtà territoriali la finanzializzazione non era possibile, certamente la Reganomics ha utilizzato con Paul Volcker alla Federal Reserve la logica dell'utilizzo del dollaro come strumento di regolazione anche dei tassi di interesse per attrarre capitali, è vero, quindi le premesse come tu giustamente dicevi e hai detto più volte stanno lì dentro, così come sta lì dentro il tema della Cina, perché è chiaro che nel momento in cui la Cina diventa un bacino produttivo formidabile, come si può dire, la finanzializzazione comincia a pensare che si può scommettere sul mantenimento di prezzi bassi grazie al ruolo di calmiere della Cina, però Clinton fa una cosa che è devastante, perché Clinton, come si può dire, passami la semplificazione, liberalizza il mercato dei derivati, cioè diventa possibile utilizzare i derivati e gli strumenti della cartolarizzazione insieme alla finanzializzazione per produrre ricchezza, questo voglio provare veramente in un inciso, cioè dietro la crisi dei muti su prime c'è un'idea democratica, non c'è l'idea dei brutti capitalisti, e questo è il vero dramma, perché c'era l'illusione che creando strumenti finanziari che riducessero il rischio, che moltiplicassero all'inverosimile i consumatori dei beni finanziari, si rendesse possibile, come si può dire, una paradossale democratizzazione della finanzializzazione, mi spiego meglio, è chiaro che se un cittadino americano voleva contrarre un mutuo e guadagnava 30 mila dollari e voleva una casa da 700 mila dollari, non gliela davano senza la cartolarizzazione, allora la teoresi dei democratici americani era, ma se noi trasferiamo il rischio del mutuo del signor Lopez, che è un poveraccio, ha decine di migliaia di americani che sono compratori del suo mutuo trasformato in tanti titoli, il signor Lopez si compra la casa che non si può permettere e questi altri americani fanno dei soldi sui titoli del mutuo del signor Lopez, che era la teoresi dei democratici, non è questi, come dire, la Reganomis, la Reganomis ha posto le premesse con i flussi di capitale, con la necessità di rafforzare l'economia americana, ma dentro quel modello lì c'era ancora un pezzo di sviluppo economico perché non c'era ancora la Cina, perché non c'era ancora… Qui siamo arrivati alla teoresi per cui il destino della, diciamo, democrazia passa attraverso la finanzializzazione. Ryan Zingales, Salviamo il capitalismo dai capitalisti, il famoso libro di Enaudi del 2004, teorizzavano, ma era un circuito di idee che girava e questo ci ha portato ad avere sfondato il mercato, cioè paradossalmente ormai l'indicazione dei prezzi prescinde dalla natura reale dei beni e questo ha mille, tra l'altro, controindicazioni.